Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi vi parlerò di due nuove uscite per la casa editrice Lippo Campo che vi lasceranno davvero a bocca aperta. Io qualche mese fa sono stato a Londra, ho visitato come saprete ormai tutti il negozio e anche galleria di Mina Lima. È un negozio molto molto bello al centro di Londra, molto piccolo anche, e qualora vi foste persi la mia recensione vi lascio il link sopra nelle schede. In quell'occasione acquistai anche una copia della sceneggiatura dei crimini di Grindelwald autografata da Mina Lima e che adesso custodisco gelosamente. È come custodisco gelosamente anche questo volume qui che a me è piaciuto tantissimo. Questi classici illustrati da Mina Lima stanno finalmente arrivando anche in Italia grazie a Lippo Campo. È il primo, io l'ho letteralmente divorato e mi piace tantissimo il fatto che sia pieno, strapieno di elementi interattivi. Naturalmente troverete tutti i link sia al sito dell'Ippocampo, sia alla mia recensione di questo volume qui, e sia alla mia esperienza nel negozio Mina Lima, tutto sotto in infobox e anche nelle schede. Bene ragazzi, ma di cosa vi voglio parlare oggi? Di questo bel pacco che mi è appena arrivato e io non smetterò mai di ringraziare Adelio della casa editrice Eppocampo che mi ha mandato questo bellissimo pacco perché ragazzi all'interno ci sono le due novità che dovrete per forza regalare a Natale perché valgono assolutamente la pena, io l'ho già vista in inglese ma in italiano sono davvero super super contento di poterle stringere tra le mani. Questa è la copia di Alice nel Paese delle Meraviglie e al di là dello specchio, quindi tutti e due in un unico volume. Ovviamente anche questo illustrato dai nostri Mina Lima, che per chi non lo sapesse, ma credo sia una cosa abbastanza difficile da credere, Mina Lima si sono occupati e si stanno occupando tuttora di tutta la parte grafica, sia dei film di Harry Potter in passato che adesso dei crimini di Grindelwald. Ma non solo di questo, anche di molto altro, io vi invito caldamente ad andare a sprucciare un po' su internet le biografie di questi due personaggi davvero molto molto interessanti. E come vi dicevo, il primo volume è Alice nel Paese delle Meraviglie e il secondo invece è il romanzo di Kipling e si tratta del libro della giungla, in questo verde davvero bellissimo. Io vi dico la verità, riconoscerei la mano di Mina Lima anche dallo spazio. I colori che loro utilizzano sono assolutamente riconoscibili già dalle copertine, utilizzano questi toni molto acidi, di questi colori che tendono al giallo, al verde e all'arancione. Lo abbiamo visto anche nei Tiri Wispy Weasley, che secondo me sono l'apoteosi del loro stile, ma comunque in tutta la saga di Harry Potter è andando avanti anche in Animali Fantastici. Io direi adesso di aprire questi due bei volumi e di guardarli all'interno. Il solo fatto che i volumi siano sigillati singolarmente così col cellophane fanno già presagire che all'interno ci siano tanti piccoli elementi da preservare e naturalmente ragazzi, come vi dicevo, questi volumi sono di altissima qualità. Già dalle copertine basta semplicemente toccarli per capire di cosa si tratta, a differenza di quei tacquini che ho deciso di non acquistare, quelli lì di Harry Potter, perché erano davvero di pessima qualità e costavano tantissimo. E invece guardate la qualità dei materiali di questi volumi dell'ippocampo, che sono dei cartonati con effetto tessuto e con tutti i caratteri in oro. Sono davvero bellissimi, come altrettanto belle sono le coste di questi volumi, che messe tutte vicine danno davvero un effetto spettacolare. Io non vedo l'ora che escano anche gli altri classici, perché in libreria sono davvero una bellezza per gli occhi. Dentro questo volume, ad esempio, dentro Alice nel Pese delle Meraviglie, troviamo molti allegati, come ad esempio lo stregatto al quale sparisce il corpo, oppure troviamo anche una piccola Alice alla quale allungare braccia e gambe, ma ancora tantissimi altri elementi interattivi, come il finicottero della regina di cuori e chi più ne ha più ne metta. Io spero che attraverso le immagini possa restituire un minimo della meraviglia che viene provocata dallo sfogliare questi volumi. E lo stesso vale anche per il libro della giungla di Kipling, che adesso andiamo anche lui a deboxare. Eccolo qui, liberato dal suo involucro, ragazzi, ditemi voi se non è una bellezza. Già dalla copertina possiamo vedere le scimmie, troviamo anche Shere Khan, Bagheera, troviamo Baloo, troviamo tutti i personaggi principali, troviamo anche il piccolo Mogli. Io davvero sono molto molto invogliato dal rileggere questi classici, perché in questa versione sono sicuro che potrò assaporare di più la bellezza del racconto. E ovviamente anche in questo volume troviamo tantissimi elementi interattivi, come nel precedente. Qui possiamo trovare, ad esempio, un inserto con le leggi della giungla, troviamo tantissime mappe, come quella della città abbandonata delle scimmie. Ma davvero, ragazzi, ogni due o tre pagine troviamo qualcosa da poter ammirare e rimirare per tantissimo tempo. Io sono felicissimo di avere anche queste due nuove uscite. Io vi ricordo che vi lascio i link sotto in infobox al mio negozio Amazon, alla vetrina Amazon, dove potrete trovare questi volumi e tantissimi altri libri da me consigliati. Come al solito, ragazzi, qualora li acquistaste, mi raccomando, fatemi sapere, ditemi cosa ne pensate. Se li avete già acquistati, fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Taggatemi su Instagram, nelle vostre storie, con i vostri libri in mano, così che io le possa ricondividere. E, naturalmente, ragazzi, adesso vi faccio anche vedere tutti e tre, uno di fianco all'altro, perché sono davvero qualcosa di pazzesco. Io non vi dico le cose tanto per esaltare un prodotto, ma ditemi voi se non sono bellissimi questi volumi da tenere in libreria. Io, davvero, non vedo l'ora che escano anche i prossimi. Questi volumi valgono ogni singolo euro che viene investito su di loro. Ragazzi, sono degli investimenti, dei classici intramontabili, illustrati da Mina Lima. Io direi che non potevamo chiedere di meglio. Ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Io ringrazio ancora tantissimo la casa editrice Lippo Campo e Adelio per avermi inviato questi volumi e, naturalmente, ragazzi, io resto a vostra completa disposizione per qualsiasi dubbio. Contattatemi, mi fa sempre piacere. E vi do appuntamento a prestissimo con tante altre novità. Ciao! Ciao! Ciao!